Salve a tutti i ragazzi e per me, io sono Marco Oggi siamo in un nuovo video Che deficiente, è il mio primo video Vi mostrerò la mia cameretta, sì, la mia cameretta Ok, cominciamo Vabbè, di solito ci stanno le vostre cose, no? Sì, cos'è l'armadio? Questa è una cazzadetta Una cazzata Dopo questa, ma te, perché la vidano? E vabbè, dopo questa è la mia stanza Vi ripeto Vi ripeto, no, ho detto Di lasciare un like Un like Un like Un like Lasciare un like E Ci diciamo gente E no, aspetta Giri ciao gente No Giri ciao gente Giri... Oh Aspetta, aspetta Vi amo Ciao Non che sto dicendo Ciao Ciao Ciao